Installatori, ben trovati! Oggi vediamo quali sono le modalità per mettere i centrali di allarme lince in rete per la gestione da remoto, sia per l'utente finale ma anche per l'installatore, per la programmazione e configurazione del sistema di allarme. È possibile configurare due modalità che possono coesistere attraverso l'installazione di una scheda combinatore GSM-GPRS o con la scheda Wi-Fi. Entrambi gli articoli sono disponibili nel nostro shop online cercando gli articoli 9579 e 9565. Vediamo ora nel dettaglio le principali caratteristiche delle due schede. Cominciamo con la scheda GSM-GPRS che permette di aggiungere le funzionalità di un combinatore telefonico operante sulla rete GSM-GPRS alle centrali della serie Gold 869 e consentendo anche la connessione al cloud lince tramite la rete GPRS. La scheda va installata all'interno della centrale avendo l'accortezza di porre prima la centrale in servizio al fine di evitare segnalazioni di sabotaggio. È possibile poi installare la SIM nella sede. A proposito di SIM, lo sai che gli impianti di allarme lince possono essere gestiti con la SIM dati multioperatore? In questo modo viene eliminato qualsiasi problema di scelta dell'operatore. Il sistema testa di continuo la potenza di segnale ed il migliore operatore disponibile, dà diritto all'abilitazione utente di lince Cloud Premium, garantisce sicurezza della connessione tra l'utente e la centrale. Inoltre l'utenza può essere disdetta in qualsiasi momento senza costi. In abbinamento alla scheda GSM-GPRS è possibile scaricare l'app lince GSM per la gestione del sistema direttamente da smartphone. Vediamo ora la scheda Wi-Fi, che vi ricordo è disponibile sul nostro shop online digitando l'articolo 9565. La scheda, a seconda del tipo di centrale, può essere installata sia internamente alla centrale che all'esterno. Nella centrale MST si consiglia di installarle esternamente, protetta da una copertura in plastica, per evitare eventuali problemi di interferenza con la copertura in metallo. Una volta installata, la scheda va configurata tramite il Goldsoft, dopodiché è possibile iniziare la programmazione da web browser. Questa modalità è molto pratica per l'installatore, in quanto può gestire l'impianto da remoto sia per cambiare le impostazioni che per aggiornare eventualmente il firmware della centrale. Anche in questo caso, in abbinamento alla scheda Wi-Fi, è possibile scaricare l'app lince Home per la gestione del sistema direttamente da smartphone. Alla prossima!